Un furtolampo in un minuto e 12 secondi sono riusciti a portar via un bottino che sfiora i 70.000 euro. Un colpo messo a segno ai danni della concessionaria Bianchimoto in via Newton ad Arezzo. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 4 nella notte tra martedì e mercoledì. Utilizzando un furgone i banditi hanno sfondato il vetro della porta d'ingresso ed hanno portato via 4 motociclette, 3 delle quali si trovavano nella vetrina ed un'altra era invece posta in fondo allo stabilimento. La banda di malviventi è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza della concessionaria, 3 o 4 le figure riprese dalla telecamera, tutte a volto coperto. Al furto della mercia e danni strutturali, in frantumi è andata infatti l'intera vetrata ad ingresso del locale, si aggiungono i danni subiti da alcune motociclette che per effetto domino sono crollate a terra nell'impatto con il furgone utilizzato come ariete. Nella vicenda si stanno occupando le forze dell'ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.